Che cosa si sente di dire a questo punto della situazione, tenuto conto che risposte concrete da parte di D'Agostino non ve ne sono state neanche ieri, al di là di quello che lui aveva detto una settimana scorsa? A me preoccupa anche la situazione tecnica, tra mille problemi che abbiamo, siamo in emergenza da un paio di mesi e non vediamo via d'uscita, nel senso che gli infortunati si fa fatica a recuperarli. Sì, ripeto, in questa situazione secondo me ci pensano anche un po' per recuperare perché mettere la gamba, rischiare così di farsi male, di allungare, di accorciare i tempi per recuperare, adesso uno ci pensa non due ma tre volte e vedo anche in qualche, già oggi, in elemento di oggi vedo già che non si lavora più come prima. Questo chiaramente è un aspetto tecnico che si riflette sulla squadra ma c'è l'altra componente che insomma viene sviluppato un po' il lavoro che viene fatto, intanto perché non si percepisce lo stipendio, ma poi lei che deve scervellarsi per fare la formazione per rispettare il minutaggio, gli under e quant'altro. Tutto questo viene vanificato, i punti in classifica che inevitabilmente saranno tolti? Sì, adesso io ripeto, non so che dire, sappiamo la situazione, la conoscono tutti, la conosciamo tutti, a me quello che adesso mi dà ancora più fastidio è il fatto che vedo un po' di scoramento, è normale che ci sia, vedo qualche ragazzo che comincia a mollare, questo è figlio di una situazione. È inevitabile che sia così, però dovrei essere bravo io così a prendere in considerazione quelli che non mollano perché poi allenarsi male e farli scendere in campo sarebbe ancora peggio. Mister si sente un po' preso in giro, vuole ovviamente chiarezza perché ogni volta il Presidente dice pagherò gli stipendi la settimana prossima e poi questo non accade, qual è il suo stato d'animo? No, preso in giro no, spero che possa pagare gli stipendi perché non è facile lavorare in questa maniera e non è neanche giusto, non è neanche giusto, però ripeto, preso in giro assolutamente no, io vado avanti per la mia strada, io ho la coscienza a posto.